Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod Oggi vedremo a starare KSPI Extended Questa mod non fa altro che riportare in Kerbal una vecchia mod che era molto popolare tempo fa La Interstellar, che aggiungeva parti per viaggi interstellari insieme a numerose risorse esotiche Però quella mod non viene aggiornata dalla 025 mi pare E questa mod, che in realtà non è una mod, è più una collezione di altre piccole mod Permette di tornare a utilizzare appunto quel sistema di viaggio Parti sono tutte queste, sono un bel po' quindi non le mostrerò tutte E hanno le loro varie categorie, ad esempio pods, reactors, radiators, warp engines eccetera Qui in probe l'unica che vi faccio vedere è questa qui Che in realtà non è un vero e proprio probe, è un'antenna però ha un probe quindi viene messo qui Pesa 2 tonnellate e se io faccio deploy Questa è in pratica un'antenna laser In cui voi potete cambiare la lunghezza d'onda da infrarosso lungo, corto, quasi infrarosso Rosso, giallo e verde, di luce visibile E questo qui in base alla lunghezza d'onda potete comunicare meglio attraverso l'atmosfera Come vedete qui abbiamo un atmospheric absorption range Qui c'è scritto diretto quindi non combinabile di 2,5 terametri Poi in parti strutturali abbiamo solo delle truce esagonali, niente di speciale, ne sono delle lion head Quindi un'altra mod Fuel tanks abbiamo parecchi fuel tank Che come vedete hanno sì forme abbastanza diverse Però hanno tutto in comune la possibilità di scegliere le varie risorse Se ce ne sono molte abbiamo ad esempio uranio, plutonio, torio, uranite Oppure per gli serpatoi normali abbiamo idrogeno, deuterio, trizio, metano, ammonia, idrazina, azoto Hydrolox, liquid fuel oxidizer, ossigeno, no oxidizer, liquid fuel, metano e ossigeno, metano e basta Azoto, ossigeno, acqua, ammonia, CO2, elio, HTP, idrazena, idrogeno eccetera eccetera Ci sono pure dei serpatoi, un attimo, serpatoi radiali questi qui Che intanto tutte le parti hanno anche la tweak scale integrata Questi qui sono dei serpatoi radiali che possono essere sparati via una volta esauriti E poi c'è anche un serpatoio di aria compressa se vi dovesse servire Comunque andiamo nei motori che sono le parti più interessanti Ora questi motori usano tanti carburanti Nel senso che non hanno un carburante unico A seconda del carburante che scegliete Ad esempio prendiamo questo No, prendiamo questo Per prendere il motore sbagliato Un motore che può andare Questo qui No Eccolo qui Questo motore qui che va ad A varie risorse E qui avete tutte le varie specifiche Dove vi da i chilo newton per megawatt Con efficienza Quindi ad esempio con idrogeno il 68% Con l'elio il 38% Con il neon l'84 Sì l'84, 52% eccetera eccetera Poi abbiamo anche un motore Questo qui laser Che appunto utilizza un laser E può utilizzare varie Varie risorse Insieme al polyvinyl chloride Da 100 unità Tutti i motori hanno una cosa chiamata Waste heat Che va dissipato attraverso i diraditori Che vi farò vedere dopo Poi c'è ad esempio Daedalus Questo qui è del vero Un progetto vero nella realtà Per una nave interplanetaria Che vabbè Lasciamo stare Un po' troppo ambizioso 72 tonnellate Antena integrata da 40 terametri E 300 kN di spinta In pratica spara dei pellet Qua ne ha 2000 I pellet qua c'entra E poi il campo magnetico Generato da questo qui Aiuta a propellere il tutto In avanti E Sì appunto Quindi Project Aedalus Poi questo qui Il dei Dei Noni Chius Non so come si pronuncia Questo qui è un motore tradizionale O a metano o a idrogeno Da 1000-1400 kN Poi abbiamo EM Drive Questo qui produce spinta Solo dalla corrente 0,002 kN per MW E efficienza dell'8,8% Quindi non è per niente efficiente H1 alluminio Questo qui ha un booster Il modello 3D è uguale a quelli stock Però in realtà è un booster ad alluminio Da 1000 kN Poi cosa abbiamo Fusion Engine Questo qui 50 tonnellate Con lithium hydride Da 1000 unità E spinta Di 3700 kN Magnetic nozzle Questa qui 100 kN massimo Con propellente idrogeno Magneto Inertial Fusion Engine 50 kN E propellenti litio Magneto plasma Dynamic thruster Questo qui è Ha vari propellenti Questo qui Anche lui Ha vari propellenti Anche lui Ha vari propellenti Quindi insomma Questo qui è un vasemir Radiale Quelli ha vari propellenti Non c'è molto da dire In quanto dovete calcolarvi voi La Anche ad esempio Questo Dovete calcolarvi voi La spinta che verrà Effettivamente generata Dal motore In base al carburante E al Alla Alla Conversione All'efficienza Di conversione C'è pure questo qui Che è Abbastanza carino Un nuclear Ramjet Da massimo Di 300 kN Abbiamo pure L'efficienza Di Carnot 32% E reactor Sì abbiamo Tutte le varie specifiche Comunque Come avete Come avrete capito I motori Sono Sono abbastanza Flessibili In termini di Carburante Che va Che si può utilizzare Mettere questo Probe core Giusto per Controlli Abbiamo degli RCSA Hidrazina Da 2 kN Di varie forme Service tank Questa qui Immagino sia Per ACS T100 RCSA In linea Da Queste qui Sono Richiede Ok 10 Mega joule 0,5 KW Arcjet Questi qui Sono di un'altra Mod Quindi Non la Non la guarderemo In questo momento Reattori Ci sono Parecchi Reattori Antimate Matter Questa qui No Un'altra Mod Quantum Singularity Reactor Per Produrre Vediamo cosa Produce Vediamo Idrogeno Può produrre Varie cose Può produrre Praticamente Quasi tutte Le risorse Mega joule Thermal power Base heat Helio Charge particles Eccetera Ce ne sono Diversi Con anche Modelli 3D Interessanti Questo qui È un target fusion Reactor Spherical Questo qui Oh quanto è grande Spherical Tokamak Questo qui Ha salt reactor Sale Liquido Open cycle Pebble Plasma beam Stellator Oh Bello questo qui Stellator Alpha cooling Comunque sì Sono tutti i reattori Che fanno Comunque cose simili Tra loro Convertono risorse E abbiamo pure dei motori Qui non si sa perché Immagino perché abbiano un reattore integrato Comunque sì Sono tutti i reattori Che fanno cose simili Solo con risorse E efficienze diverse Electric generators Abbiamo quelli che producono corrente Quindi abbiamo alcuni motori nucleari E poi dei generatori elettrici Che Che Trasforma charge particles In corrente elettrica Abbiamo ad esempio anche Questo qui Che qui immagino ci vadano messi dei Dei pod Poi c'è questo qui Un attimo Questo qui va Oh 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 ok Ok Questo è 37 tonnellate È un pannello Solare Gigante No io adesso lo voglio lanciare Anzi Lo lanciamo dopo Che può produrre C'è scritto No non c'è scritto Non c'è esattamente scritto Però ha 23 km quadrati di area In radiatori abbiamo diversi Radiatori ad esempio in Grafene Abbiamo pure Questi qui Deploy Che sono Estendibili Ce ne sono di varie Ah questa pure Si è rimpicciolissima Di varie forme Per varie Per varie Per adattarsi a varie Comunque Strutture Ce ne sono anche Di Vediamo No questo qui è statico C'è questo qui Che ad esempio è radiale Si estende Questo qui è quello Il modello 3D È abbastanza vecchio Ancora della Della vecchia moda Questo qui che si Si estende In modo molto Particolare 4000 kW Si comunque sono Oh Interessante metodo Di Deployment Comunque si avete capito Sono tanti Radiatori Microwave Qui abbiamo Tante parti Sono principalmente Antenne Di vario tipo Vediamo qualcuna Interessante C'è questa qui Che è Un'antenna Da 50 Megametri Che si estende Con tanti Piccoli esagoni Che poi si attaccano In questo Modo Tacc 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 Poi cos'altro abbiamo Questa qui No Ah non si può Quindi è chiusa Bene Vediamo Dishes Questa qui Questa qui è un'antenna Abbastanza Tradizionale Poi abbiamo Le antenne Quelle grandi Extend Che si aprono In questo modo Microwave Questa qui È da 50 Megametri Anche lei Extend La mia preferita Forse è questa qui La Monti Bandwidth Dish Transceiver Che ha in pratica Questa sfera È da 5 Terametri Voi in pratica Fate Open door Si apre qua sopra Poi voi fate Test pivot Si incrina di lato E poi Test rotation E si mette a girare Su se stesso Quindi è in pratica Un'antenna normale Però coperta Ce ne sono Altre Come vedete Deploy Che ad esempio Sono dentro dei fairing Beh i fairing Sì beh Questa è un po' esagerata I fairing dovrebbero O comunque Togliersi Sono antenne molto grandi Da questa 103 metri Quindi vi permetteranno Di comunicare Letteralmente Tra Di stella in stella E poi Basta qui ISRU Ne abbiamo qualcuno Rifinerie Per convertire Le varie risorse No Cosa ho sbagliato Tipo questa Oppure questa Ci sono pure Altre parti Come gli scoop Per raccogliere risorse I drill Anche questo qui verde Per la Per la regolite Ci sono Cryogenic tank Super capacitor Processing Electrolyzer Converter Wind collect Questo qui Questo qui Colleziona Vento solare Anche se il modello 3D Infatti è uguale All'antenna Però comunque Lo scopo è quello In science In science Abbiamo qualche Piccola parte Un magnetometro Gamma ray Questo qui piccolino Mass spectrometer Un telescopio Abbastanza triste Science laboratory In warp engines Abbiamo Alcubier Questo qui che si Si piega su se stesso E poi si Apre Abbiamo un Alcubier heavy E un Alcubier light E ognuno Ha exotic matter Reaction wheels E poi Ognuno in pratica Ha una Un peso massimo Che può Che può portare Ok Sarai in orbita Con questo Craft Ho qui Un Reattore Adesso ho fatto Un test Giusto per Intanto attivo I Radiatori Ho già attivato Questo qui Il Daedalus La fiamma Vabbè un po' Un po' triste Dire il vero Però comunque La spinta La sta facendo Il reattore Vabbè Ancora Si sta ancora avviando Intanto però Volevo aprire Il Questo qui Quindi Activate Vediamo Quando si Estende Dovrebbe Aprirsi Ok Qui adesso Il referring Rimane Ah non ho ancora Finito di aprirsi Va bene Quindi Ok Dovrebbe In teoria Spararsi via Quel fairing Suppongo Vabbè Però comunque Abbiamo la nostra Ship E come vedete Stiamo Producendo Vabbè Stiamo producendo Calore In eccesso Però quello è normale Stiamo anche Producendo Thermal power E mega joules Stiamo collezionando Tramite questo Anche se Suppongo Quella lì Che questa qui Sia Una specie Di torre Infatti E in pratica Questi qui Specchi Riflettono Verso lì In una specie Di Torre di riscaldamento Ora Qui abbiamo Ci sarebbe pure Oltre al Persistent Rotation Ci sarebbe anche Il Persistent Trust Solo che Non è ovviamente Per Per tutti i motori Solo per i motori Che Ce la fanno Però comunque Vi permette Di continuare La spinta Del vostro Craft Anche Per lunghe Per lunghe Distanze Comunque Sì Comunque Le parti Di questo Modo Sono davvero Tante Questo radiatore Non è Decisamente Abbastanza Per tutto Il craft Ci sono Davvero Tante Parti E Che sono Abbastanza Difficili Da usare Non sono Così Semplici E Soprattutto Costano Molto Non è Decisamente Un modo Da utilizzare In In carriera Quindi Un saluto Ad Attimo Di Club Italia Ad Alberto